Autore di libri, di documentari sul mostro, ben ritrovato sulla di radio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora sulla scia del vostro comunicato, lei ovviamente è consulente, collabora con alcuni dei legali, sono tre in tutto che hanno chiesto la riapertura delle indagini, l'accesso agli atti del fascicolo sul Pacciani, la notizia di ieri che ha riasceso ovviamente l'attenzione sulla scia di sangue del mostro di Firenze, sui tanti interrogativi risolti, al di là delle opinioni sui processi che si sono svolti, anche sui tre duplici omicidi che sono rimasti senza un colpevole. Però io credo che ripartirei da quando ci eravamo sentiti alla fine dell'estate, perché già avevamo parlato di un accesso concesso e poi negato agli atti, già avevamo parlato del vostro suggerimento, richiesta di fare accertamenti su una persona che era stata toccata dalle indagini e poi dimenticata. Sì, dunque io innanzitutto volevo precisare qual era il mio ruolo con la consulenza agli avvocati per le famiglie dei francesi e per la sorella di Carmela Denuccio. È stato un lavoro di ricerca, di documentazione, di fornire la documentazione e di individuare i punti di interesse investigativo di maggior rilevanza per quello che riguarda la richiesta di riapertura di indagini e la richiesta di accesso agli atti fondamentale per poter proseguire e accertare determinati fatti proprio in relazione a questa domanda che mi hai fatto tu, quindi di un sospettato e anche di altri episodi relativi all'indagine passata e archiviata nel 2020. Quali sono secondo voi in modo particolare gli elementi, li avete elencati nella vostra richiesta di apertura delle indagini? Magari ce ne può raccontare qualcuno, secondo la quale merita fare ulteriori accertamenti? Sì, mi limito a quello che riguarda l'accesso agli atti perché per quanto riguarda la riapertura delle indagini è molto corposa e molto vasta. Per quanto riguarda l'accesso agli atti sono degli elementi che fondamentalmente vanno a verificare delle situazioni relativamente a una persona nativa del Mugello che ha dei precedenti piuttosto significativi e che poi non viene inserito stranamente incredibilmente nella lista dei sospettati, gli trovarono due cartucce calibro 22 serie H, numerosi altri indizi che non sto qui a elencare perché sarebbe troppo lungo, sono presenti nel dossier dei Carabinieri stranamente anche quello dimenticato e che conducono ad un personaggio che potrebbe essere collegato a queste situazioni, lo dicono i Carabinieri stessi, non lo dico io e che poi stranamente ritroviamo a lavorare in un ambiente istituzionale molto vicino alle indagini con un noto magistrato. Quindi c'è da chiarire un po' questa situazione, ci sono degli elementi di carattere investigativo da approfondire e spero che questa volta visto il numero dei familiari e il numero anche degli avvocati, dei legali che seguono la questione sia sufficiente affinché si possa aprire questa porta dell'archivio del Mostro di Firenze e poter legittimamente vedere quello che è tutta la documentazione completa relativamente a questi orribili delitti. Mi ha colpito una cosa che lei ha detto, c'era una persona che a un certo punto era in un ambiente istituzionale vicino a un magistrato, questo potrebbe per assurdo spiegare, no per assurdo, per ipotesi, spiegare alcune mosse del Mostro che sembrava poter anticipare gli investigatori o conoscere cose che in teoria erano riservate. Assolutamente sì, vedi le lettere consegnate a mano di minaccia ai magistrati, due furono consegnate a mano, quelle del settembre 1985 che tutti ricordiamo con dei bossoli dentro con un articolo di giornale. Questa non è una mia fantasia, è una testimonianza diretta, resa e cristallizzata, che lavorasse questo individuo del dossier, lavorava in, non voglio specificare adesso dove, però è molto vicino all'ambiente investigativo, soprattutto quello giudiziario, ma non era né un poliziotto né un carabiniere, questo vorrei chiarirlo. Noi abbiamo ovviamente, quando ci sentimo a fine estate, intervistiamo anche la sorella della denuncia, una delle vittime, il problema poi, l'aspetto a non dimenticare è anche questo, che al di là dell'interesse, a volte anche della passione con cui si segue un caso, il caso forse col case per eccellenza, c'è poi la sofferenza delle persone, dei familiari che sono rimasti senza una risposta e questa è una cosa a cui spesso anche lei Cochi ci riporta. Sì, sì, vi riporto e vi confermo, io ho fatto questo grosso lavoro di cucitura tra i vari parenti delle vittime, anche quelle francesi, con l'aiuto di Salvatore Mauggeri anche, per poter mettere insieme, tu sai che su questa vicenda ognuno ha una sua idea diversa su chi fosse il mostro o i mostri e questo mi ha dato modo di constatare tutto ciò, la grande sofferenza, la grande voglia di giustizia che c'è in queste famiglie e il mio lavoro è stato faticoso anche da un punto di vista emotivo perché comunque mettere insieme tutto ciò e riuscire a mettere insieme più legali che li rappresentassero, almeno per un tentativo di arrivare ad una verità consolidata e più credibile di quella che adesso è parzialmente emersa, alla quale io poco credo sinceramente, ma al di là di quello che possa credere io, in effetti c'è dietro una grossa sofferenza, è una grossa, purtroppo un grosso sconforto per come sono andate le cose e per quello che ci si aspettava, spero. Grazie 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 a tutti.